Lugine, lugine! Dialogare con le future generazioni sulle tematiche connesse ai rifiuti come passo fondamentale per garantire un futuro sostenibile. Con questo spirito sono iniziati gli incontri di sensibilizzazione sull'economia circolare Riusiamo il Pianeta, dedicate agli studenti di primo e secondo grado della regione Basilicata. Sei tappe, tra cui Potenza, Matera, Policoro, Melfi, Moliterno e Rotonda, con oltre mille alunni per premiare il miglior video e slogan tra i circa 500 realizzati dai ragazzi. Gli incontri, promossi dall'assessore regionale all'ambiente e al territorio all'energia Cosimo Latronico e organizzati dalla Direzione Generale Ambiente, rientrano nell'ambito delle attività programmate nel documento strategico R3 Raccolta, riciclo, riuso del piano regionale rifiuti. L'obiettivo è quello di accrescere l'educazione ambientale nelle nuove generazioni con specifiche campagne di informazione e promozione. Lo scopo, l'obiettivo è di sensibilizzare le scuole che hanno partecipato ad un concorso indetto dalla regione, dalla Direzione Ambiente, sul tema del riuso, del riciclo, della raccolta. Una sensibilità anche nei comportamenti di ciascun ragazzo, quindi delle loro famiglie, per non buttare i rifiuti, per differenziare i rifiuti, assumendo l'idea che il rifiuto è un valore, non è uno scarto. E da quel valore si può fare molto, si possono riusare i materiali, si può costruire energia, si può tutelare l'ambiente. I ragazzi oggi partecipano ad una giornata che parla della loro regione. Il tema è sicuramente l'acqua ed è fondamentale, però la questione dell'uso e del riuso è ciò che ci ha spinto a partecipare poi al concorso. C'è stata la fase ludica e poi quella di approfondimento ovviamente sul tema. Tematiche da sempre vicine al liceo scientifico Dante Alighieri di Matera. Noi al liceo scientifico Dante Alighieri siamo molto attenti ai temi dell'ambiente, in particolare perché abbiamo un indirizzo che è il nuovo liceo TRED, che è un liceo quadriennale, sperimentale, che è focalizzato sull'attenzione ai temi della transizione ecologica e anche ai temi della transizione digitale.